Alla fine è accaduto ciò che il sindaco temeva e che in molti avevano ipotizzato. L'archistar Massimiliano Fuxas rinuncia all'incarico, non sarà lui ad occuparsi della riqualificazione della dogana. Ad annunciarlo è stato lo stesso primo cittadino nella sua consueta diretta Facebook del lunedì. L'architetto ha comunicato la sua rinuncia attraverso una breve missiva letta dal sindaco in diretta. Ti ringrazio molto per aver pensato a me per collaborare al progetto della riqualificazione della dogana, ma considerate le quotidiane polemiche sollevate dai professionisti locali, mi vedo costretto a rinunciare a questo seppur piccolo prestigioso incarico, sperando in questo modo di riportare l'armonia nella vostra comunità. Ringraziando nuovamente per la fiducia accordata allo studio Fuxas ti faccio i miei migliori auguri per il progetto e ti porgo i miei più cari saluti. Alla base della decisione di Fuxas le proteste sollevate dall'ordine degli architetti locale e nazionale contro l'affidamento diretto voluto dal comune. Nei giorni scorsi l'ordine aveva diffidato Palazzo di Città e aveva annunciato imminenti ricorsi al TAR e all'autorità nazionale anticorruzione. Il sindaco rammaricato attacca e chiede agli avellinesi di far sentire la propria vicinanza all'architetto nella speranza che ci ripensi. Noi abbiamo suscitato in Fuxas l'unico sentimento che non dovevamo suscitare perché aveva davvero mostrato grande entusiasmo rispetto a questa iniziativa. E noi che abbiamo fatto gli abbiamo fatto perdere questo entusiasmo. L'abbiamo fatto perdere perché Petecca si è messo a fare questa polemica. Ora non voglio entrare, non parlo di Petecca, voglio lanciare un appello proprio alla mia comunità, al di là di Petecca, non mi interessa dell'ordine. Io vi dico dimostriamo a Massimiliano Fuxas che qualche, come lo dico io, sfessato, parlando di Facebook, qualche sfessato non può far perdere questa grande opportunità alla nostra comunità. I dubbi sono tanti e io ritengo che il sindaco non dica la verità, non abbia detto la verità. Fuxas è stato giocoforza costretto a non arrivare a lavorare ad Avellino perché il contratto e la procedura seguita non era una procedura legittima, non era una procedura che si poteva completare. E questo è dimostrato dal fatto che noi più di un mese fa abbiamo ascoltato il dirigente che ci aveva annunciato più di un mese fa una firma ad Oras di questo contratto e guarda caso sono passati 30-40 giorni e il contratto non si è firmato. Quindi il sindaco mente, sapendo di mentire, crea a giocare confusione, aizza comitati spontanei dei cittadini che dovrebbero fare non so che cosa. Bisogna ricordare a festa che le regole valgono più di ogni altra procedura e progetto e noi siamo per il rispetto delle regole. Quindi l'eventuale non accettazione di Fuxas dell'incarico è sicuramente un problema per la città, per la Dogana, per il futuro del centro storico. A noi dispiace, a me personalmente dispiace. Io sono stato tra i primi e anche tra i pochi a dire che era corretto avere un archistar di quel calibro ad Avellino. Ma se le regole non sono corrette, se le procedure non sono corrette, se l'amministrazione non firma il contratto perché evidentemente qualcosa non va, forse sarebbe stato più onesto dire questo alla città e non come al solito giocare a rimescolare nel torbido facendo confusione e mettendo gli uni contro gli altri. Smettiamola di creare i buoni e i cattivi, i verdi e i rossi, i bianchi e i neri. C'è una contrapposizione su tutto che è inaccettabile.